Bene signori, in questo video vediamo le regole dell'amore, che ti aiuteranno a vivere una vita sana e felice. In caso non sai chi sono, sono Federico Picchianti e da sette anni aiuto le donne a fare innamorare i uomini. Strategie, approcci giusti, relazioni sentimentali, amanti, you name it, Federico Picchianti ce le ha tutte. Sottoscritto. Mi trovi su social media con oltre quasi mezzo milione di followers, fra poco ci arriverò. Instagram, Facebook, TikTok, da sette anni circa, ho perso il conto ormai che faccio sta cosa. Quindi sì, se hai bisogno di aiuto ovviamente vai al link in descrizione, ma vediamo quali sono le regole dell'amore che ti aiuteranno a vivere felice per sempre nella vita sentimentale. Prima regola importante, frequenta un uomo che ti dica ho prenotato per due, è una sorpresa, e non uno che dice non lo so, ora vediamo dove andare. Il motivo per cui ti dico questo è perché vuoi frequentare degli uomini che siano in grado di guidarti e quindi di trasmetterti la loro energia e il loro investimento, il loro grado di investimento. Se tu frequenti un uomo che non trasmette energia e quindi non trasmette voglia, forza e volontà di investimento nei tuoi confronti, è molto probabile che stai avendo a che fare con un uomo completamente disinteressato. Gli uomini veramente interessati investono tutte le idee, fanno delle cose per te, si applicano per te e quindi si impegnano semplicemente. Quindi l'uomo, tra virgolette, interessato genuinamente si riserva del tempo per te, quindi si riserva i momenti per stare a cena fuori con te e portarti a cena fuori, si riserva il momento per dirti ci sono per te il fine settimana e poi tira fuori il portafoglio o l'Apple Pay e sgancia il soldo. Questo deve fare l'uomo per te, ok? Se un uomo non fa questo per te, è molto probabile che non gli piaci. Quindi la prima regola è questa, devi frequentare un uomo che ti dica che ti ha portato e appena dato a cena per due ed è una sorpresa. Non un uomo che, beh non lo so dove andiamo bro, boh fai un po' te poi forse me la dai. Non funziona così, ok? Quindi non è questo il tipo di uomo che vuoi frequentare. E questa è una regola aurea, non è una regola che vale solo con quelli con cui vuoi la relazione seria oppure no, mio marito non deve farlo. Tuo marito lo deve fare e se deve impegnare tuo marito o il ragazzo che stai conoscendo, il ragazzo che ti piace, chiunque sia, a noi non ce ne frega niente. Tu devi per forza frequentare questo tipo di uomini se vuoi vivere una vita soddisfacente sentimentale. Sia che ti vuoi solo divertire, sia che non ti vuoi divertire, vuoi stare all'aria, pesce all'aria, come ti pare. Se poi vuoi soffrire in amore, allora non fare nulla di quello che ti dico, quindi fai tutto l'esatto opposto. Poi, seconda regola aurea dell'amore è che l'uomo giusto dovrebbe portarti a cena fuori e non in motel, ok? Che significa? Significa che non solo un uomo deve sapere guidarti e quindi deve sapere come, tra virgolette, trasmettersi la sua voglia di investire su di te. Non solo questo, ma deve anche essere in grado di, ovviamente, investire, tra virgolette, su di te, come dicevo in precedenza, e non di portarti solo a farlo e basta. Uno che non ti invita a uscire e quindi ti porta solo in motel, ok? Ti invita solo per l'Airbnb o a casa sua per la bottiglietta di vino come facevo io quando volevo solo fare la trombata all'epoca. E questa cosa non va bene, questo è un segnale palese di un uomo disinteressato. E tu devi essere in grado di riconoscerli, devi riconoscere questi segni e non seguire quelli che sono i deficit del passato, perché io sono stata trascurata, eccetera. E' inutile che tu pensi al passato, una persona che vive il proprio presente, pensando al passato, se tu sei una donna che ha avuto traumi, subito traumi, eccetera, mi dispiace, mi dispiace davvero. Non ci puoi fare niente, però questi traumi lasciamoli nel passato. L'unica cosa che hai adesso è il presente, non c'hai manco il futuro. Tu in mano, non te ne rendi conto, ma non hai nemmeno il futuro. Tu hai solo il passato e sì, tu hai solo il presente. Il passato è una congettura mentale e il futuro è una congettura mentale assustante. Si può vivere solo a compartimenti stagni di 24 ore. Questa è la tua vita. Tu puoi prevedere il futuro prossimo o il passato prossimo, puoi guardarlo, ma se tu pecchi di presunzione e inizi a pensare al tuo passato, tu stai dando al presente la dipendenza dal passato. E quindi quello che io ho fatto prima, quello che ero prima, la donna che ero prima, ancora mi comanda ad oggi. La sofferenza che ero prima, gli uomini che mi hanno fatto soffrire, l'uomo che mi ha fatto star male, ancora questo qua mi controlla, ancora il giorno d'oggi io sono vittima di questo qua che nel passato mi ha fatto star male. E allora continuo a dare le scuse a quello che è il mio passato, che sono stata cattiva, che mi hanno abusato, eccetera. Tutti siamo stati abusati, chi meno chi più. Ok, quindi che facciamo? Ci arrendiamo? Ce l'ameniamo? Io pure ho avuto dei traumi che non ti sto qua a dire, però non me la smeno tutto il tempo nel presente. Mi sbatto i pugni sul tavolo, ieri stavo con la caffettiera, faccio così, mi venivano i pelle d'ogga, che un'altro poi mi mettevo a piangere perché è un momento difficile, ma zitto, mi rimbocco le maniche così, e mi metto così e faccio il cazzo di video, ok? E parlo, vado in call, vado in consulenza, non sto là a sbattermi le palle e a menarmela egregiamente, perché magari sono stato tradito in passato, la mia compagna è una stronza, che non è il caso, vabbè però questi sono esempi in generale, non è la mia compagna, è una bravissima persona. Non è una stronza, però per dire, no? Cioè all'epoca, che ne so, stavo con una ragazza, o me o il tuo lavoro, e ne ho il culo, il mio lavoro subito, subito, magari adesso ho uno stress dovuto al contesto lavorativo, ho uno stress dovuto alla gestione, il personale, quello, e che cazzo? Non posso lasciare che questo gestisca il mio presente, e tu non ti puoi proprio permettere, cioè, non ti puoi proprio permettere come donna di lasciare che l'ex e il passato controlli il tuo futuro. Sarebbe un peccato e uno sputo alla vita che ti è stata data. Altra regola importante per l'amore, un uomo che non ti invita mai ad uscire, quindi, non è interessato. L'uomo che non ti invita ad uscire non è un uomo genuinamente intrigato o interessato a te. Un uomo che non si impegna, quindi, come abbiamo appena detto, a voler fare delle cose con te, stile coppia, un atteggiamento stile coppia, simil coppia, è un uomo che intende soltanto scopare, che non c'è niente di sbagliato se un uomo vuole solo farsi una suonata di saxofono con te, e vuole solo leggere la Bibbia, ergo scopare. Ma il problema è che tu, comunque, se ascolti me, ascolti il sorpicchianti, non vuoi assolutamente lasciare che gli uomini abbiano il coltello dalla parte del manico quando hanno a che fare con te, quindi smetti di dargli il coltello dalla parte del manico, ok? E il coltello dalla parte del manico glielo dai quando loro arrivano a fare quello che vogliono senza essersi impegnati e senza aver investito su di te. E alla fine un'altra cosa importante. Non esiste un uomo, quindi questa credo sia la quarta regola, la terza regola, non lo so, ho perso il colto, non esiste un uomo troppo impegnato per la donna che ama. Eh ma lui è sempre impegnato, eh ma lui sta sempre al lavoro, eh ma lui può vedermi solo il fine settimana perché fa un lavoro impegnativo. Non ci interessa. Un uomo che non si impegna per la donna che ama, un uomo che non fa delle cose, per la donna che dice di amare, è un uomo che non è genuinamente interessato a te. E pensare che lo sia davvero e fare quindi l'avvocato di quello che ti fa soffrire è soltanto la ricetta per l'autodistruzione. Tu ti vuoi stare male? No. E allora smetti di proteggere un uomo o di giustificare le mancanze che un uomo ha nei tuoi confronti come se fosse una mancanza reale. Mettili in testa che se c'è l'amore da parte sua sicuramente ci sarà poi in futuro anche l'investimento. Quindi non è abbastanza impegnato. Quinta regola, regola aurea. Se vi fate le coccole dopo averlo fatto, non significa che ti ama. Se tu pensi che stare con un uomo e allora andarci a fare solo quello, ma se poi ci siamo fatti le coccole, allora sicuramente mi ama, certo, certo, certo mi ama. Questa è una stronzata, non è vero, non è vero. Un uomo che ti fa le coccole dopo che l'avete fatto non è detto che ti ama. Se vi fate le coccole dopo averlo fatto, magari semplicemente anche lui ha bisogno di quella scarica di emozioni, di emotività, o ancora peggio, magari lo sta facendo perché così ti stai zitta e ti rilassi. Perché alcuni uomini, sì, mi dispiace, ti fanno le coccole perché tu sbraghi e gli chiedi le coccole, non perché le vogliono fare. E allora lui ti sta facendo le coccole perché semplicemente, altrimenti poi spacchi i maroni, capito? Quindi lui se la prende con calma e dice sì, vabbè, ti faccio le coccole. Non significa che ti ama. Se un uomo ti fa le coccole, non significa che ti ama. Altra regola aurea, quindi siamo alla sesta regola importante. Piuttosto di controllare, se un uomo aggiunge ragazze su Instagram, controlla se lui rientra nei tuoi standards. Cioè piuttosto che pensare a lui che forse ha aggiunto delle ragazze sui social media, inizia a pensare a lui invece se è veramente l'uomo che fa il caso tuo, se è veramente l'uomo che può entrare nella tua vita nel modo giusto come piacerebbe a te. Perché il tuo obiettivo non è controllare e verificare se mi ha aggiunto la ragazzetta su Instagram o non l'ha aggiunta. Il tuo obiettivo è verificare e controllare che un uomo sia l'uomo che tu vuoi al tuo fianco. E allora in questo caso c'è un cambio totale. Cioè un uomo si innamora di una donna che ragiona così. Perché? Perché tu saprai poi, e trasmetterai, tutte quelle che sono le tue vibrazioni e le tue richieste all'interno del rapporto di coppia con questo ragazzo. E se questa cosa non la fai, hai firmato la tua condanna. Quindi non ci sarà uno sviluppo dopo, ma ci sarà una decadenza, ok? Quindi una decadenza. Perché controllare costantemente se lui guarda le ragazze su Instagram o mette i like o le seguono o le esegue, è una ricetta per trasmettergli ancora di più la tua paura di perderlo. Quindi questa cosa non deve assolutamente essere fatta. Regola finale e importantissima, che secondo me è la base, è che se un uomo ti dice che non vuole una cosa seria, tu ti devi sforzare di credergli. Quando un uomo dice che non vuole una cosa seria da te, tu gli devi credere con le parole. Quando un uomo dice che non vuole impegnarsi con te, che non vuole una storia seria, che non vuole rotture, che vuole prendersela con calma, tu ti devi sforzare, mi devi fare sto regalo, di credergli veramente al fatto che ti ha appena detto che non vuole qualcosa di serio. Devi solo comprovare il contrario attraverso i fatti e attraverso il fatto che non gliela dai, ok? Quindi gira tutto intorno a questo. Quindi, sforzati di fare questa cosa, sforzati di avere in testa queste regole, che ti aiuteranno a fare davvero innamorare un uomo, a farlo cadere ai tuoi piedi, finalmente. Avere queste regole rappresenta un baluardo di standards e di impostazione femminile giusta che ti consentirà di fare innamorare gli uomini.